L'ansia e lo stress ormai sono assolutamente fattori molto molto comuni nella vita quotidiana, molto spesso perché abbiamo dei ritmi molto frenetici, soprattutto nel mondo occidentale. E quindi che cos'è l'ansia? Cioè in realtà ognuno credo abbia la propria, chi ne sente di più, chi ne sente di meno. Ovviamente sono sempre reazioni adattogene, sia quella dell'ansia sia quella dello stress. Quindi prova a capire per te che cos'è la tua ansia, dove la senti, in quale parte del corpo la senti. C'è chi la sente a livello dello stomaco, c'è chi la sente più a livello del cuore, chi a livello toracico, quindi magari gli si fa il respiro corto e affannato, chi magari si sente proprio impotente a livello motorio. Quindi prova a individuare prima da dove parte a livello fisico l'ansia.